Il Premier Letta dice che dopo molti anni per la prima volta la legge di stabilità è una manovra di restituzione agli italiani, è così secondo voi? Secondo noi non proprio, il Premier Letta continua nella sua campagna elettorale più che nelle sue manovre, dalle bozze che erano girate in questi giorni ci aspettavamo davvero un'importante legge di stabilità con una importante manovra e invece scopriamo ahimè che si tratta sempre di una manovrina, i numeri sono poco importanti e quello che manca secondo noi a questo governo è il coraggio di fare passi importanti, forse sono passi che non può fare, vuol dire andare a colpire le grandi lobby, vuol dire andare a colpire dove ci sono i maggiori sprechi per la politica, il Premier Letta deve avere il coraggio di colpire lì. Altre cose rimangono sempre in una campagna elettorale che si continua come sta facendo questo governo di larga intesa. Scompare l'Imu sulla prima casa ma arriva l'attrice che comprende la tassa sugli fiuti e anche quella sui servizi indivisibili, cambia il nome ma aumentano le tasse? È proprio questo di cui stavo parlando prima, Alfano aveva detto che l'Imu sarebbe stata cancellata dal vocabolario dei commercialisti, esce dalla finestra, rientra dalla porta, quindi è stato cambiato il nome per accontentare le larghe intese, quanto avevano promesso in campagna elettorale, rientra dalla finestra molto probabilmente, con nome trise, molto probabilmente più alta, sia che praticamente ha questi due test, una tasse sui servizi comunali e una tassa rifiuti su la gestione dei rifiuti. Ora vedremo bene anche di quanto sarà quantificata, però sicuramente per i cittadini le tasse non calano. Intanto voi proprio sulle proprietà immobiliari avete avuto molta attenzione e c'è una promessa mancata, bisognava rivedere tutte le imposte sugli immobili a cominciare dalla riforma del catastro, ma non c'è ancora niente, che pensate al riguardo? Noi pensiamo che una riforma sul catastro deve essere fatta, c'è chi dice che si può fare in breve tempo e assolutamente efficace. Dobbiamo capire qual è il reale valore degli immobili, perché ci sono immobili accatastati anche nel centro di Roma che hanno veramente uno scasso valore. Da lì è quello che dicevo prima, anche dalla riforma del catastro si riesce a andare a colpire veramente i grandi patrimoni. Parliamo del cuneo fiscale, il governo dice che è il cuore della sua manovra, ma i soldi messi sul piatto sembrano un po' pochi, è così? È proprio il cuore di una manovrina, sì, concordo con Letta. Ci aspettavamo un grande cuneo fiscale e soprattutto si aspettava anche Confindustria, che con il suo presidente Squinza aveva già dato dei numeri, parlava di 8-10 miliardi per iniziare veramente a fare una cosa rilevante. Purtroppo il governo accantona soltanto 10 miliardi in tre anni, di cui di questi partendranno alle imprese e partendranno ai lavoratori. È una manovrina che anche sul cuneo fiscale va a scontentare un po' tutti. Scontenta le aziende e scontenta anche i sindacati, come ha già riferito la Camusso. Ma voi farete una battaglia in Parlamento per cercare di mettere più soldi su questa posta? Assolutamente sì, soprattutto cercheremo di mettere più soldi dove servono, quindi ai cittadini e alle imprese e un po' andarle a prendere dove, secondo noi, il premier Letta ha accontentato ancora le grandi lobby, quelle magari dell'editoria, quelle delle spese belliche. Andremo a toglierli da lì per cercare di redistribuire un po' le cose. È chiaro che è un periodo difficile, è un periodo di crisi, ma i soldi sono pochi e secondo noi devono essere presi dell'alto. Che effetto le fanno le storie ormai sempre più diffuse di piccoli imprenditori che vanno all'estero per non fallire, per pagare delle tasse ragionevoli? Io da imprenditore come sono stato sicuramente è un tema su cui mi fa molto riflettere e fa riflettere per diversi motivi. Il primo è che ci continuano a dire che vanno all'estero, vanno a delocalizzare perché la mano d'opera costa meno, quasi nel dare la colpa ai propri lavoratori perché non hanno dei ritmi di lavoro come i lavoratori asiatici. Ma secondo uno studio fatto da Lice, nel 2011 hanno localizzato circa 27.000 imprese. E' interessante anche capire dove hanno localizzato. Non hanno certo localizzato in Medio Oriente oppure in Sud America, per carità, anche lì, ma soprattutto hanno delocalizzato in Svizzera, hanno delocalizzato in Francia, hanno delocalizzato in Carinzia, dove la mano d'opera non costa meno, ma è molto più facile fare impresa. C'è una certezza del diritto, c'è uno Stato che aiuta le proprie imprese. Il nostro Stato purtroppo continuando ad aumentare la pressione fiscale e soprattutto non dando una certezza della giustizia, posso capire, posso concordare con tanti imprenditori che vedono nell'estero qualche altra risorsa. L'importante, e questo è stato anche un nostro emendamento, che se un imprenditore ha goduto di benefici, diciamo per l'acquisto di macchinari oppure per la sua espansione dai finanziamenti pubblici, nel momento in cui delocalizza questi soldi devono essere restituiti, perché non sono soldi suoi, sono soldi dei cittadini. Rimane intanto sull'orizzonte ancora sospesa la questione dell'IVA. Si parla di un'introduzione di un'alicota 7% che consentirebbe di abbassare di un punto quella più alta, arrivata al 22% e anche di rivedere un po' il posizionamento di alcune categorie di prodotti. Che ne pensa? Noi pensiamo che l'aumento dell'IVA abbia apportato sicuramente due effetti negativi. Il primo nei consumi, sicuramente in quanto i primi report danno già un calo del gettito IVA e non calo nei consumi. Il secondo, dato alle piccole e medie imprese, soprattutto ai negozianti, che per non aumentare il prezzo finale, quindi restare sul mercato, vedono ridotti i loro introiti. E' chiaro che sono manovre che vanno sempre appesate sui consumatori, sulle piccole e medie aziende. Sono manovre che secondo noi dovrebbero essere studiate di più. Ci sono stati di recente dei contrasti anche clamorosi tra i gruppi parlamentari del suo movimento, la dirigenza, cioè Grillo e Casaleggio. Come mai? Si troverà un accordo? Sicuramente. Il fatto è che il Movimento 5 Stelle è nuovo e porta anche cose nuove, abbastanza rivoluzionari. Per noi è importantissimo la democrazia e la partecipazione dal basso. E' chiaro che questi meccanismi devono essere un po' oliati, anche perché molte decisioni da noi deputati devono essere prese in brevissimi tempi.